Sono Andrea Uselli, coordinatore del corso di laurea triennale in Economia e Management. Cosa vuol dire studiare economia? Studiare economia è un gioco di squadra dove ogni giocatore deve prestare il proprio ruolo per raggiungere il successo. Le scienze economiche garantiscono così una formazione trasversale, interdisciplinare e di qualità. E nel nostro corso di studi mettiamo assieme queste competenze diverse per comporre un percorso di studi che sia qualificato e di successo per gli studenti. Studiare economia vuol dire comprendere i fenomeni del mondo, acquisire delle conoscenze, delle competenze tecniche per capire il mondo, perché il mondo parla il linguaggio dell'economia. In questo percorso di studi imparerai ad acquisire e utilizzare strumenti decisionali anche di natura quantitativa per formulare delle valutazioni analitiche nell'ambito del funzionamento delle imprese e per comprendere i fenomeni economici. E poi, come in ogni gioco che si rispetti, ci sono le regole e quindi grande attenzione data agli istituti giuridici che ci aiutano a capire come funzionano i rapporti tra i soggetti e tra le unità economiche. Un'attenzione particolare data alle tematiche di innovazione, di digitalizzazione e di internazionalizzazione, che saranno sempre più presenti anche per le scelte professionali future dei nostri studenti e dei nostri laureati. Un ottimo rapporto studenti-docenti, numerose opportunità per borse di studio e tirocini e la definizione di percorsi di assistenza agli studenti al fine di favorire un efficace apprendimento sono ulteriori punti qualificanti di questo corso di studi. Sei pronto a unirti a questa squadra di successo? Metti in campo la stella più importante, la tua. Scegli Insubria, scegli oggi il tuo domani. Mi chiamo Salvatore Pignataro e frequento il terzo anno del corso di laurea trennale in economia e management. Ho scelto Insubria principalmente per due motivi. Il primo è la disponibilità in quanto essendo rappresentante a maggior ragione ho visto comunque presentarsi diverse problematiche ma che si sono state risolte dai professori nell'immediato ma così anche come altre problematiche legate ad altri organi di Ateneo. La seconda invece è data dall'integrazione. Secondo me in questa università non siamo semplicemente un numero, non facciamo parte solamente dell'università come periodo breve di laurea ma ci sentiamo proprio parte attiva di questo piccolo mondo perché per me l'università è anche un piccolo mondo con cui interagire. Scegli Insubria, scegli oggi il tuo domani.